eccoci alla consueta operazione di unboxing il focusrite 2 è appena giunto nel nostro studio ci prepariamo ad aprirlo e a scoprire le caratteristiche di questo fantastico preamplificatore distribuito in italia da grisby music eco music aprendo la scatola troviamo immediatamente al suo interno oltre al nostro preamplificatore il manuale di istruzioni in formato cartaceo ed alcuni depliant per la registrazione presso il sito di focusrite sul come utilizzare al meglio il nostro preamplificatore vedremo quindi come utilizzarlo con i differenti tipi di microfoni dal valvolare al microfono dinamico e sul come utilizzarlo per la registrazione di strumenti elettrici come la chitarra o il basso ed infine analizzare alcune applicazioni di reamping che spesso possono essere utili quando abbiamo intenzione di lavorare con plug-in che necessitano di colore analogico ma veniamo subito alle caratteristiche l'isatù possiede quattro selettori per l'impedenza in ingresso il che lo rende versatilissimo rispetto ai concorrenti riguardo alle varie tipologie di microfoni e strumenti che possiamo collegare un ottimo sistema quindi per sfruttare al meglio i vari microfoni spesso maltrattati da una non corretta accoppiata dell'impedenza per chi è più newbie infatti ricordiamo che non tutti i microfoni vanno su tutti i tipi di preamplificatore potrebbe succedere che proprio a causa di una incompatibilità di impedenza un dato microfono suoni male su un dato pre anche se di ottima fattura possiamo scegliere quindi tra low 600 ohm circa l'isa 110 ossia 1.4 kilo ohm la funzione medium 2.4 kilo ohm e high da 6.8 kilo ohm facciamo quindi riferimento al manuale del microfono per capire meglio come accoppiare il preamplificatore sotto troviamo un selettore d'ingresso mic microfono connessione bilanciata xlr che si trova nella parte posteriore del preamplificatore insieme all'ingresso line sempre in connessione bilanciata trs l'ingresso instrument invece posto sulla parte anteriore e viene considerato un ingresso strumento o modalità di ai ottimo per il basso le chitarre elettriche o acustiche il mic input gain funziona a step di 10 db fino ad un massimo di 60 db i parametri intermedi si aggiungono con un trim posto al lato del gain knob il pulsante 30 60 ovviamente decide il punto di partezza del gain se 0 o partire direttamente da 30 db per cui farlo lavorare da 0 a 30 o da 30 a 60 db troviamo il pulsante della phantom power 48 volts per l'alimentazione dei microfoni a condensatore il pulsante del face shift per l'inversione di fase gli altri pulsanti invece attuabili dal pannello frontale fanno riferimento a filter per l'attivazione del high pass filter e il pulsante insert per l'attivazione di un effetto posto in insert sul canale stesso come ad esempio un compressore o un equalizzatore che potremmo inserire direttamente nel canale del preamplificatore i led meter mostrano un valore di in db fs dove 0 db fs corrisponde a più 22 o più 24 dbu in posizione centrale può essere calibrato con lo 0 db fs a più 16 o più 24 attraverso un trimmer che troviamo sul retro del preamplificatore la sezione send return posteriore permette l'inserimento come dicevamo di un effetto all'interno del segnale proveniente dal pre per questo collegamento è consigliabile l'utilizzo di un cavo trs bilanciato il costo è più che giustificato 799 euro circa per un preamplificatore con caratteristiche pro che si posiziona nel mercato del semi pro garantendo compatibilità completa con tutti i tipi di microfoni ottima trasparenza e buona risposta dinamica molto comodo il sistema di insert per ogni canale ed è eccellente la possibilità quindi di utilizzarlo anche nel send return di una scheda audio dove risiede una do con i plug in e e e e e e e Grazie a tutti.